Musica Mercoledì 20 settembre il sole sorge le 6.57 e tramonta le 19.18, la luna si leva le 6.55 e cala le 19.41. La fase è la luna nuova. La Beata Maria Teresa di San Giuseppe nacque il 19 giugno 1855 da genitori luterani profondamente credenti. In giovane età visse anni di intensa travagliata ricerca religiosa che la condussero al cattolicesimo, una scelta che le costò l'esclusione dalla famiglia e il licenziamento dall'ospedale psichiatrico di Colonia che dirigeva. Rimasta senza casa nel lavoro dopo un lungo vagare, trovò a Berlino la sua via. Iniziò così a dedicarsi ai tanti ragazzi di strada, molti figli di italiani che vi erano abbandonati o trascurati. A tal fine fondò la congregazione delle Suore Carmelitane del Divino Cuore di Gesù, mentre nuove comunità nascevano in altri paesi d'Europa e in America. La fondatrice morì il 20 settembre 1938 nei Paesi Bassi e sempre in Olanda venne beatificata il 13 maggio del 2006. Cappello di donna lega l'elefante. Cappello di donna lega l'elefante.